Dio che geloso, c'ho un contratto, lei è in prestito lì da loro, come i calciatori, no? È un prestito con l'alpinoletto, c'ho il cartellino, c'ho il cartellino, c'ho il cartellino Cioè capisci che due compagni ho di viaggio io? Ti contendono Vanessa! Ho appena detto a me Vanessa piace! Capito? Subito entro! Poi ci vediamo dopo, io ero qui, sono arrivato per lì Ma volevo anche chiedere, non voglio portarvi via via tempo No, prego! Neanche te, tu Perché abbiamo il camerino insieme io, Vanessa Che significa? Non è cambiato, più va avanti No, non è lì Con ste mani Volevo chiedere una cosa al pubblico Prego! Ditti per favore Ma basta allora, stanno applaudendo Eh appunto, mi fa schifo Sembrava che applaudissero te Guardano me, però sono applaudendo a te Ah ok Quanti di voi hanno visto Benvenuti al Sud? Se per caso dovessi Per caso, cioè gioca della band Per caso, dopo 15 anni, sono passati i 15 anni 15 anni 15 anni Provare a fare un terzo Dopo Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord Fare un altro capitolo Cosa che stiamo pensando L'andreste a vedere o no? Sì! Oh no! E allora E allora Lo annunciamo Lo annunciamo A Natale prossimo Bentornati al Sud! Sono l'attuale E' pronto!